la dottoressa McWheely coloriamo insieme questa è la dottoressa McWheely salutiamola ciao ciao dottoressa McWheely colori qualcosa oggi? stampiamo un disegno da colorare e aiutiamo la dottoressa McWheely il riferimento lo trovi nel commento per il video ecco la macchinina in bianco e nero è un autogru vediamo quali colori sceglierà la dottoressa per questa macchinina ripetete i colori con me siete pronti? nero le ruote e il telaio sono neri grigio i dischi sono grigi giallo giusto rosso blu la cabina è blu giallo il braccio della gru è giallo grigio di nuovo giallo grigio grigio ottimo l'autogru è pronta ora va al cantiere mettiamo la macchina sugli appoggi speciali tiriamo fuori il braccio e solleviamo una lastra di calcestruzzo ci siamo riusciti l'autogru è tornata nel garage e voi potete guardare un altro cartone animato questa è la dottoressa McWheely oggi pensa di colorare una nuova automobile prendi la carta stampa il disegno da colorare e coloriamolo insieme troverai il riferimento al disegno da colorare nel commento al cartone ecco un'automobile da corsa bianca vola dalla dottoressa McWheely a tutta velocità allora vediamo che colori scegliere per la macchinina per le ruote scegliamo il colore nero la marmitta sarà grigia così come il serbatoio e i dischi delle ruote e ora coloriamo la scocca proviamo il colore blu no questo colore non piace alla dottoressa McWheely forse va bene il verde nemmeno questo va bene forse coloriamo la scocca di rosso come quella della McQueen sì questo colore va benissimo e la fiamma al fianco sarà gialla fatto che meraviglia ora la dottoressa McWheely ha la propria auto da corsa vediamo come corre è velocissima è la più veloce di tutte le macchine puoi scegliere il tuo colore preferito per la macchina da corsa ora guardate gli altri cartoni animati con la dottoressa McWheely questa è la dottoressa McWheely ciao oggi colora un'autopompa prendi le matite di diversi colori stampa una macchina in bianco e nero e al lavoro troverai il riferimento al disegno da colorare nel commento al cartone ecco l'autopompa coloriamola da che cosa cominciamo? le ruote saranno nere è un ottimo lavoro e che cosa coloriamo di grigio? i dischi delle ruote le alette le scale e lo scomparto con gli strumenti e le pompe il cannone spara acqua il paraurto e la griglia del radiatore bello! ora coloriamo di arancione gli indicatori di direzione e il lampeggiante e di che colore sarà il corpo della macchina? blu? no verde? neanche rosso si! la nostra autopompa è pronta andiamo a spegnere un incendio la nostra autopompa è un incendio la nostra autopompa è un incendio il fuoco è spento evviva! la macchinina torna nel garage e tu puoi vedere un altro cartone ciao, dottoressa McWheely che cosa facciamo oggi? coloriamo un'immagine facciamola insieme prima, stampa un'immagine troverai il riferimento al disegno da colorare nel commento al cartone vedi? questa è una macchina sportiva non colorata mi chiedo che colore sceglie la dottoressa McWheely per la macchinina? al lavoro verde nero alcuni pezzi devono essere neri anche questi qua ora usiamo qualche altro colore rosso che meraviglia e ora che colore scegli? grigio la macchinina è pronta ora può partire come è bella e veloce puoi scegliere per la macchinina i tuoi colori preferiti per scaricare i disegni da colorare guarda il video prurale tutto insieme non è calito vero l' expectations e la sicurezza come la cosa mediana overall ? �도 Grazie a tutti.